E' un'altra cosa che ti ha detto Ci siamo Yugi, il duello finale Le divinità egizi saranno mie Ho analizzato ogni tua mossa, ogni strategia, ogni follicolo sul tuo fottuto prepuzio Ho delle carte mai viste, a te ignote e che non hai speranze di sconfiggere Ho sottomesso l'asis duellando Hai qualche altra patetica parola da dire in tua difesa? Prima che ti annienti una volta per tutte? Mmm, si Non dirlo E' tempo di... Sta zitto Yugi Comincio io Oh, fanculo Non so che cosa sia Evoco Yugi che attacca direttamente i tuoi life points Cazzate Aspetta Non puoi attaccare durante il primo turno Ok, quindi fanculo, metto una carta coperta Chissà cosa hai in mente con quella carta coperta Sarà meglio per me non fare mosse azzardate Accidenti Spero vivamente che Kaiba non si accorga che si tratta della mia patente scaduta Evoco ascia da guerra in posizione d'attacco Cosa? Quella carta fa schifo No? Ma fanculo, quella carta è una merda Ma mi prendi in giro? Che razza di carta hai usato? È stupida Dai, muoviti Fai la tua mossa? Gioca una buona carta? No, seriamente Togli quella fottuta carta dal campo Non lo evoco ascia da guerra incazzata Oh, quella è una delle carte più potenti di tutto il gioco Kaiba non stava raccontando frottole Se devo vincere questo duello avrò bisogno della guida del cuore delle carte Mmm, bene È il momento di concludere il duello Ti ricordi di Exodia, vero? Che riunendo tutti i cinque pezzi del proibito si vince automaticamente il duello Bene, penso che dovrò rinfrescarti la memoria Vai, Exodia! Sono Exodia e ti distruggerò E quello che cazzo è? Oh mio dio, che cazzo ho fatto? Wow Il tempo è finito Yugi Sacrifico ascia da guerra incazzata E cinque dollari Per evocare Drago nerd quattro occhi blu Non volevo arrivare a questo punto Kaiba Ma dovrò attivare il mio... Effetto speciale E cioè Oh, cosa farai adesso ragazzone? Il duello è finito Va bene, abbiamo fatto Andate tutti a casa Ciao Cosa? Hai rovinato la mia fottuta carta Yugi 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 stronzo